Berezzi quindi benvenuti in questo nuovo video, siamo qua In questo video per andare un po' a parlare e a commentare la 24esima giornata del fantacalcio E purtroppo siamo qui a commentare una sconfitta, una sconfitta pesante anche perché ho affrontato un diretto concorrente per l'arrivare dei primi 5 posti in classifica Anche se ci sta perché venivo da 5 vittorie consecutive e quindi una sconfitta ogni tanto ci può assolutamente stare Peccato anche perché poi ha vinto proprio all'ultimo considerando che gli ha fatto doppietta Arnautovic fino a praticamente l'ultima partita Ma fino all'85esimo perché Arnautovic ha fatto il secondo gol all'85esimo pareggiavamo quindi proprio per questo un po' un peccato Ma al di là di questo a me alla fine è andata anche discretamente perché hanno fatto 4 assist con quello di Brecalo Un gol più che altro ho perso per i voti molto bassi degli altri che non hanno fatto bonus Il 4 di Oliveira, il 3 e mezzo di Vicaro è certamente pesato Ma al di là di questo allora, nello specifico lui ha fatto sotto a 5 e mezzo Quindi un putteggio più che onesto Il mito dell'8 e mezzo di Falcone che si conferma comunque un ottimo portiere con la Samp sta facendo molto bene Ma io lo dico da un anno a questa parte che è un giocatore della Serie A L'ho detto l'anno scorso con il Cosenza che meritava la Serie A Meritava una chance, guarda caso adesso che gioca titolare Sta facendo bene, guarda caso Detto questo, difensori suoi tutti 6 Quindi adesso si investe i Smalling 6 L'Ukatelli 6 e mezzo 4 e mezzo Pellegrini 6 Fabian Lovic, 6 e mezzo Buonaventura 14 e mezzo Arnautovic, 6 Nani e 5 Vlaovic Quindi praticamente con 2 gol ed una porta inviolata ha vinto la partita Io invece 68 e mezzo In virtù del 3 e mezzo di Vicario Che fa male, comunque prende 2 gol Molina 6, Rezza 6 e mezzo con l'assist 6 per Abbs, 10 per Barra che continua a fare molto bene Questo tra l'altro è il suo decimo gol stagionale Bene così sono contento 6 per Sottil, 5 Bairami, 4 Sergio Oliveira 8 Caprari che continua a far bene anche lui assist 8 anche per Nico González, 6, 5 e mezzo Per Abram Come dicevo in panchina aveva anche Bregalock Ho fatto assist però purtroppo Ho raggiunto solamente il punto di 68 e mezzo Che non mi è utile ai fini Del almeno pareggiare questa partita Come dicevo In ottica classifica ha una sconfitta pesante Perché il quarto che era pari punti con me Fino a poco tempo fa Adesso mi stacca di 3 punti Quindi va a 37, io rimango a 34 Sempre comunque quinto Quindi attualmente rientro nell'obiettivo Che è divenuto tale in corso d'opera Perché è una prima parte di stagione Molto negativa per me Detto questo Adesso prossimo scontro importante Per ancora sperare Nell'aggiungimento dei primi tre posti Perché affronterò proprio il terzo in classifica La prossima giornata E se voglio avere qualche chance Per poter centrare i primi tre posti Certamente dovrò cercare di vincere questa partita Detto questo Comunque rimangono di quelli che ha subito più gol In tutto questo campionato Ciò vuol dire che Non è neanche così semplice E anzi in realtà sono il quarto Che ne ha fatti di più Quindi Vabbè comunque Al diario dei numeri Oggi sconfitta pesante Però adesso la prossima Parita importante In ottica terzo posto Adesso metteremo la formazione E poi ne parleremo Detto questo mi fermo Ci vediamo con un prossimo video Ciao ragazzi